L'ex ospedaletto di Via Taraschi ospita l'Istituto Musicale Braga, per quanto tempo? Dunque, innanzitutto per fortuna, perché quest'anno col terremoto è stata veramente dura. E devo dire che grazie alla nostra tigna, alla nostra voglia di fare, siamo riusciti a sensibilizzare su Teramo un'organizzazione che avesse potuto garantirci una sede decorosa e ci siamo riusciti, quindi dai primi di novembre siamo a questo Via Taraschi, l'ex ospedaletto, più famoso a Teramo come ex ospedaletto. Credo che questo serva a noi a ribadire la dignità che deve avere un conservatorio in una città. Quali sono i vostri numeri? Lo ricordiamo? Quanti sono gli studenti, gli insegnanti? Quanta gente è ospitata in questa struttura di passaggio? Diciamo che adesso contiamo oltre 28 docenti, circa 300 allievi che dopo il terremoto sicuramente aumenteranno. Rispetto a come stavamo un anno fa, quando mi sono insediato, mi sembra di sognare, ma al di là del sogno c'è purtroppo una realtà estremamente tangibile che è il terremoto. Il terremoto ha devastato, oltre che i nostri cervelli, anche le nostre strutture. Noi poi particolarmente, perché siamo rimasti senza due sedi, c'è la sede di Piazza Verdi Storica e la sede del Comi, per cui quest'anno ce la siamo vista veramente persa. Poi è successo questo, abbiamo iniziato a sondare la città e abbiamo trovato questa struttura. Devo dire che il conservatorio deve assolutamente mantenere una sua dignità all'interno di questa città. La città deve capire che non bastano più le 4-5 stanzette che potevano essere destinate a un istituto storico e così riusciremo, spero, a crescere e a mantenere quella altissima lasticella di quel livello che noi auspichiamo di poter raggiungere. Perché un istituto come un conservatore con 121 anni di storia in una città come Teramo, e ometto a questo punto ogni commento su quello che sta succedendo a Teramo, credo che sia veramente un'eccellenza.